Al Tribunale di Pescara apre oggi il GAV, il gruppo antiviolenza della Procura della Repubblica, che convoglia lo sforzo investigativo volto a far fronte agli episodi di violenza contro le donne. Si tratta fondamentalmente di un'inea che pensiamo innovativa e pilota nel mondo della giustizia perché cerca di avvicinare sempre più il mondo problematico delle donne e delle cosiddette fasce vulnerabili alla giustizia, creando una sorta di intermediazione tra le forze dell'ordine che sono direttamente sul territorio e la Procura perché vi sia un'interlocuzione diretta. Il gruppo è costituito infatti da forze dell'ordine specializzato nel settore, si sono scelte persone esperte nel campo, prese sia dalla polizia che dai carabinieri. È un gruppo molto coeso che cerca in qualche maniera di far sì che tutte le indagini che vedono la presenza di parti offese vulnerabili, in particolare donne, si sentano vicine alla giustizia, non altro dalla giustizia, non vedano la giustizia come qualcosa di distante e difficile da raggiungere, non geremmo che vi sia un immediato ricorso alla forza dell'ordine che hanno un immediato rapporto per quello la necessità con il magistrato, per quello la necessità e l'opportunità di istituire questo centro proprio all'interno degli uffici del Tribunale. Quello della violenza contro le donne, definite soggetti fragili e vulnerabili, è un fenomeno ben lungi dall'essere sradicato, sintomo di una cultura patriarcale ancora troppo diffusa nella nostra società. E le misure restrittive imposte causa pandemia, come la convivenza forzata, che offre meno occasioni per chiedere aiuto, hanno anche inasprito gli episodi di violenza, sopraffazione e umiliazione da parte degli uomini nei confronti delle donne. La pandemia, forse in alcuni casi, più che aumentare i numeri, ha inasprito le situazioni che erano già degradate, difficili, queste convivenze forzate forse hanno, e non ultima la crisi economica, ha sicuramente reso chi è già vulnerabile ancora più vulnerabile. E quindi il problema è proprio la difficoltà delle donne di avere una coscienza della loro fragilità e la consapevolezza di poter essere tutelate effettivamente. Ad ogni modo, anche dopo aver chiesto aiuto a parenti, alle persone fidate o alle varie associazioni e cooperative, quella di denunciare alle forze dell'ordine rimane una libera scelta della donna.